Buongiorno, stiamo andando a Rengono. Il primo piano no. Non è che posso mettere, ecco il giorno della tua vita, ecco le due torte. Eccoci arrivati. Ora entriamo, anche se apre tra 30 minuti. Eccolo qui. Che poi contate che è la prima volta che vediamo quei mezzi, perché di solito io sono sempre venuta in macchina. Quindi ci siamo incartate. Ci hanno molto emozionato. Che poi io lo sapete che non faccio lo shock. Eccolo. Allora, loro sono andate in fila per lo shock, che è questo qui. E io naturalmente non lo faccio perché mi cago in mano. L'ho fatto una volta, ma è più. Eccolo loro. Eccolo loro. Oddio. Oddio. Siamo tutte zuppe. Zuppa per dire zuppe. Ciao, guardatemi. Abbiamo fatto le cascate. Come si chiama sto coso? C'è il mio preferito, quindi posso farlo in giro perché sto tranquilla. Stai tranquilla? Stai tranquilla? Sì, stai tranquilla? Giorgio, stai tranquilla? Stavoglia. Ok, questo è il mio preferito. Allora, allora vado a fare questo. Stiamo andando via. Stanti. Il ragazzo ha morito tutta rossa. Zuppa frascica. Perché sarà anche la sorella di Desi. Praticamente abbiamo fatto due giochi insieme, tutti di acqua. Sei. Ok, quindi questa fondamentalmente è stata la giornata. Naturalmente non vi ho potuto riprendere più di tanto perché, come potete capire, ero impegnata. Però, insomma, spero vi sia piaciuto lo stesso anche se è così corto. E adesso vi lascio alla parte più brutta di questo vlog, dove almeno io sono più brutta. Quindi preparatevi. 3, 2, 1. Allora, come vedete sono tornata, mi sono docciata, mi sono lavata i capelli che adesso devo andare a asciugare e pettinare. E sono tutta rossa. Perché non mi sono messa la crema oggi. Per andare come una stupida, non ci ho pensato. E quindi questo è fondamentalmente il risultato per un parere di qua e dietro il collo. Che è una cosa non fucsia di più. Vedete quel coso lì? Ecco. Uguali denti, quello che state guardando. Guardatelo attentamente quel colore. Quello più scuro. Fucsia. Comunque detto così, mi sto guardando Il Diavolo Veste Prada. Che ho sempre voluto guardare, ma alla fine non ho mai colto l'occasione. E quindi mi sto impegnando proprio a guardarlo. Perché già dall'argomento moda mi piace, mi fa impazzire. Quindi stasera va così. Niente, spero che questo vlog vi sia piaciuto e vi abbia tenuto come sempre un pochino di compagnia. Fatemi sapere qua sotto. Se siete mandati al Rainbow, se volete andarci, se sapevate che esistesse. Non lo so, qualsiasi cosa. Io ho una cosa nera qua. E detto ciò, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao! Ciao!